pregare nel bisogno, ma non solo. La preghiera ha molti scopi e benefici, tra cui permettere di vedere in maniera nuova le nostre relazioni, con Dio, con gli altri, anche con noi stessi. Nella preghiera, quella vera, non quella fatta ripetendo a memoria e senza consapevolezza ciò che si sta pronunciando, c'è un sapore di comunità. Pregando per gli altri, creiamo un legame che ci aiuta a pensare cosa potremmo fare per aiutarli e non solo. Chiedendo agli altri invece di pregare per noi, nel momento del bisogno, con umiltà, riconosciamo quindi che da soli non si può vivere. Il Salmo 140 poi ci fa capire come il salmista senta e sia assolutamente sicuro che le preghiere non sono parole vuote pronunciate nel vuoto, ma che quelle parole sono accolte da qualcuno. Quanto è consolante questo? Penso che a tutti sia capitato un momento di sconforto, nel quale si pensava di star parlando a vanvera, come se la preghiera non servisse a nulla e fosse solo una sorta di obbligo morale. Mi permetto di dire che è effettivamente e assolutamente così se lo facciamo malamente, ovvero se non ci soffermiamo per davvero sulla questione per cui stiamo pregando, se non riponiamo né fiducia né speranza, se in fondo non abbiamo veramente voglia di fare qualcosa per cambiare. E chi è che agisce esattamente all'opposto di così? I bambini, che con la loro spontaneità ed entusiasmo di vita sanno cambiare il mondo di chiunque. Ed è per questo che Gesù dona a loro il Regno dei Cieli. Allora, il pensiero di oggi è proviamo oggi ad essere come bambini, ad avere fiducia, speranza, a pregare veramente perché per quelle situazioni che vogliamo e desideriamo veramente cambiare.